Gli occhi bene aperti chiediamo un po' d'amore alla persona che vorremmo fare rimanere e ci facciamo male se la pressione sale poche parole ci precipita il corale giù Cos'è che ci tascina fuori dalla macchina? Cos'è che ci fa stare sotto un portone? Cosa ci prende? Cosa si fa? Quando si ama il caffèo? Il gioco si fa duro e non si può dormire e non sappiamo più decidere se ripartire per parte forte il cuore ma anche per lo stupore di non capire l'orizzonte che correa Cos'è che ci cadono e tutto ci moltiplicano? Cos'è che nella morte fatele fumare? E quando si chiede? Quando si va? Quando si ama davvero? Visteo! 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 Abbiamo già rubato. Abbiamo già pagato. Ma non sappiamo dire quello che sarebbe stato. La pace non cambiamo, nemmeno lo vogliamo, nemmeno è bello di capire la cosa. Cose che ancora si può dire nel favore, chi sono quelli della foto raffreddere. Quando si chiede, quando si dà, quando si ama davvero mistero. Sarai sincera, dimmerò, dimmerò. Sarai sincero, ma non ti prende, ti prende, ti prende, sono più vero che c'è. Dipende solo da te, prendere la mano è facile, la verità è la vita che dà. E' una fredda calentà, è il smentio che c'è. Cos'è che ci trascina fuori dalla macchina? Cos'è che ci fa stare sopra un portone? Cos'è che ci prende, cos'è si fa, quando si ama davvero mistero. Quando si tiene, quando si dà, quando si ama davvero mistero. 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 Grazie ragazzi, grazie a tutti Grazie 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 a tutti Grazie 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 Grazie